Gianfranco Dorosa, co-founder di cinebooking.com, una startup innovativa che è stata lanciata e presentata presso Cinecittà Studios, dove abbiamo la nostra sede. Siamo qui al Room Startup Week per presentarla. È una startup innovativa, verticale, con un'applicazione dedicata allo scenario di business del lavoro, dell'entertainment. Quindi cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda, musica e teatro. Qualsiasi figura professionale, tecnica, artistica in questo scenario può trovare opportunità di lavoro in match su cinebooking.com. Oltre le forniture, le attrezzature, gli equipment per quanto riguarda lo scenario cinematografico e televisivo, con un semplice job alert può fare una ricerca o proporre la propria candidatura in maniera assolutamente innovativa. La scheda non è pubblica, quindi si fa tutto in maniera riservata. Vi aspettiamo su cinebooking.com. Grazie a tutti.